Sì, siamo sempre qua. Sono le... che ore sono? 9 e mezza. 9 e mezza, finiremo a l'una. Wow, ciao amore! Che meraviglia! Pausa nei camerini tristi, mangiamo, cene tristi e questa è la giornata. Oh, Lym is my baby here. And it's done for today! E niente, siamo qui, questa è la giornata, ci stiamo interrompendo mille volte oggi, non siamo neanche a metà, finiremo a l'una di notte ma il pubblico non lo sa e quindi sono ancora contenti. Stiamo iniziando, stiamo tornando, luce Mara e luce Levante. Preparatevi alla foto del secolo con me e Mara, con la Kermit Supreme. Allora, potete sentiremo a scrivere un cuore Votuti, tuttarelli, 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 tuttarelli. Ghiam! Votuti, potenti, potenti, potenti! Votuti, potenti. Min extra, potenti! guarda che belli ah siamo a luglio e ci vestiamo invernali per X Factor si guardate le scarpe per X Factor cioè Filippo Filippo Plain belle però un po' meno magari dai un po' meno dai ciao bellissime e bellissimi ciao 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 siamo qui a mangiare c'è Mara, c'è Manuel c'è Levante parla al telefono e c'è roba and we are shooting in disamissi siamo arrivati a Pesaro raga adesso andiamo a fare una partita di beach volley con Mara Maionchi è breve wow wow if you guys haven't been to Italy yet you are losing all this and we are ready to start shooting guys you can find these Gia Couture shoes and this Repetto for the Blonde Salad exclusively sold on the Blonde Salad go get them twinsies and this is my room so beautiful this is my private terrace ciao bellezza che meraviglia ciao Malfi non so se notate il mio entusiasmo ma siamo gasatissimi qua su questo van siamo proprio pregni di entusiasmo buongiorno amici stiamo andando direzione Pesaro per girare le prime auditions di X Factor non voglio discriminare Pesaro ma se conoscete Pesaro e sapete cosa si fa durante le giornate a Pesaro fatecelo sapere perché noi non conosciamo Pesaro in comandante a Pesaro come and mange a te as Fugliatelle fate proprio Osh sì Benvenuti a Napoli Buongiorno ragazzi Ho scoperto circa 4 minuti E siamo a Vamalfi Per lavoro Non capisco Sei commossa anche lei Allora abbiamo passato la nostra serata A piangere E a leggere le lettere Di un po' di fan E a chiamarli E una cosa che non avevo mai Fatto e devo ringraziare la mia patata